Voglio dire qualcosa ai nostri amici? Eh ragazzi, purtroppo siamo qua sotto per proteggerci dalla pioggia Tra l'altro, un disagio, purtroppo dovremmo scendere da qua Ho visto posti peggiori Sì, le strade come erano? Un icono attività Era tutta dritta Oggi forse ogni tipo di asfalto che esiste al mondo l'abbiamo fatto Ma secondo te ci manda lo futuro Devono? Va bene Devono? Quindi, via quebra Ho qualcun Grazie a tutti Iscriviti al partito Scriviti al aqu honesty Guardate